Ciao a tutti, oggi preparo delle potolette con verdura e ricotta. C'è ancora 500 grammi di ricotta, 300 grammi di verdura che io oggi ho cotto, 2 uova, formaggio, pane grattugiato, pepe, sale e olio. Iniziamo. 2 cucchiai di parmigiano, 2 uova, la verdura che io ho precedente dentro da tappezzettini dopo cotto. Io ho messo la pietra, si può mettere qualsiasi tipo di verdura. Metto un po' di pepe, sale e un vaso. Ora, dopo aver finito di preparare la verdura e la ricotta, metto olio nella tenda. Mi bagno le mani, inizio a preparare le potolette di verdura e ricotta. Li immergono il pane grattugiato. Dopo che si preparano si mettono nella teglia. Pronti da infornare a 200 grammi. Eccoli pronti con una giulietta di ricotta. Pronti da infornare a 200 grammi. Eccoli pronti con una giulietta di ricotta. Eccoli pronti con una giulietta di ricotta.